Di Primio vede Roma. L'era del sindaco di Chieti si appresta a concludersi. Il primo cittadino uscente non ha alcuna intenzione di abbandonare la carriera politica. Dopo aver perso il treno che avrebbe potuto portarlo in regione, Di Primio adesso punta al Parlamento. È giusto che si lasci spazio agli altri. Dopo dieci anni da sindaco e quasi trent'anni da amministratore locale, io credo che sia arrivato il momento di chiudere la porta del comune per quello che mi riguarda come presenza in prima linea. Ovviamente sarò a disposizione di tutti con una mera collaborazione dall'esterno gratuita, ovviamente, ma non ho più, credo, il mio spazio all'interno del comune. Adesso ci saranno le politiche, forse, quando questo governo deciderà a far decidere gli italiani sul destino che vuole avere, non quattro amici al bar e poi vedremo. Insomma, per ora la mia principale occupazione sarà quella di concludere questo mandato già prorogato, aiutare chi verrà ad amministrare questa città e poi penseremo anche al resto. Di Primio ha anche commentato la campagna elettorale. Le elezioni amministrative di settembre vedranno il centrodestra non unito a seguito della ribellione contro la Lega da parte dell'assessore regionale Mauro Febbo e del gruppo teatino di Forza Italia, degli stolti, secondo il sindaco uscente. Il centrodestra è talmente forte che si può permettere anche degli stolti che vanno da qualche altra parte. E così vince le elezioni. È successo con me quando cinque anni fa le stesse persone che oggi fanno confusione dicevano che io non ero vincente, credo di aver vinto le elezioni anche senza un loro straordinario apporto. Oggi avremo ancora questo problema ma alla fine i cittadini si rendono conto che chi lavora con un progetto comune per l'unità per il centrodestra ha ovviamente una chance. Chi lavora per sé in genere sta soltanto coltivando degli interessi personali. Chiunque siederà sulla poltrona di sindaco troverà strada spianata e bilancio in ordine garantisce di primio. Siamo riusciti a tenere il bilancio in sicurezza adesso vanno fatte scelte. Chi verrà dopo di noi avrà la possibilità di non dover avere il peso della gestione dei debiti ma avere la possibilità di gestire intanto investimenti per i quali già esistono finanziamenti, cantieri già avviati e poi un bilancio che è avviato verso un consolidamento che richiede ancora tanta attenzione ma che non ha più quegli alert che abbiamo trovato noi qualche tempo fa.